Sì, questo emendamento è il coronamento di un lavoro lungo e intenso, di una partecipazione con le associazioni di gestione dei servizi dei mercati, altrimenti denominate AGS. Abbiamo parlato con loro e abbiamo da inizio consigliatura visitato i mercati per capire le problematiche che li affleggono. Sicuramente la crisi economica non ha avvantaggiato questi operatori, noi abbiamo cercato di aiutarli dal punto di vista normativo con la delibera 30 e poi con la 29 che rilanciano i mercati e che già hanno portato a nuovi bandi per l'assegnazione dei posteggi. Parimenti nella tariffone è presente la tariffa per l'abbattimento appunto degli mercati che sono in AGS che la Giunta ha determinato essere e ripristinato essere al 50% l'abbattimento come vedremo nel secondo emendamento. Noi attraverso un discorso corale, attraverso l'ascolto insieme all'assessore Caffarotti e al Dipartimento abbiamo ritenuto di modificare questa percentuale di abbattimento al 65% come dice appunto questo emendamento e lasciare appunto il 65% di questi canoni ai mercati in AGS per la gestione dei servizi che sono la vigilanza, la guardiania e la manutenzione ordinaria. Mentre il 35% anziché il 50% entrerà nelle casse di Roma Capitale per essere poi destinata ad ulteriori servizi nei mercati per superare i problemi appunto di messa a norma e di ristrutturazione come abbiamo fatto in questi due anni. Noi riteniamo che è stato fatto un lavoro molto serio, è stata disdettata una vecchia convenzione che aveva delle problematiche per come era stata concepita, è stata fatta una nuova convenzione trasparente, chiara, c'è un organismo di vigilanza dentro il Dipartimento che potrà collaborare con le AGS per una migliore gestione dei mercati. Riteniamo che sia il percorso migliore che si poteva fare e quindi siamo contenti e orgogliosi di questo lavoro. Vogliamo collaborare con le AGS e questo aumento dell'abbattimento sancisce un discorso molto lungo. Grazie. 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 Grazie.